Qua in centro è tutto bene, tu devi adesso sentire tutto bene, senti come l'imbarco, ma si, io lavoravo adesso un'altra mente, tu devi sentire questo qui, ok, buono no? Eh si, è normale, a piano, mondo studio. Sì, sì, ma non con questo, perché non c'è il volume leggero, sì, ma tu, puoi anche te? Tu vuoi? Finieri per te? Tranquilo, se vuoi, sì, dai. Da cuore sembra facile, sa? Sembrano perché lo fanno sembrare. Eh, chi è bravo lo rende facile. Beh, poi noi non siamo bocciori, i bocciori magari fanno diversamente. Grazie. 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 Grazie.